Musica E' una serata di informazioni e di spettacolo in cui si cercherà di parlare di che cosa è successo in questi 15 anni in Italia. Musica Precari, IDV ci difende. Qui al Paladozza per manifestare tutta la nostra intenzione di ribaltare i codici di comunicazione della violenza e della denigrazione morale di tutto un popolo che Berlusconi e Sodali hanno determinato in questo paese negli ultimi 15-17 anni. Siamo qua per dare la spallata finale al governo richiedendo un atto di coraggio e di coerenza a tutto il centro-sinistra, riandare alle urne qualora il governo Berlusconi tra quattro giorni dovesse ottenere la sfiducia. Eh speriamo che la fiducia non ci sia. Siamo vicini alla sfiducia del governo Berlusconi e speriamo che venga votata questa sfiducia e credo che questa iniziativa serva in qualche modo a creare ottimismo e spinta soprattutto nella parte giovanile di questo partito che ha un desiderio profondo di rinnovare il paese. Stai a casa, no? C'hai le figlie, c'hai tutto. C'hai le figlie? Forse vorresti dire le figlie. Le figlie, sì sì, sono bravi anche le figlie tra l'altro. Bravi persone anche le figlie. Stai, ci siamo, no? Siamo al conto alla rovescia. No, col cappuccio no, è pericoloso col cappuccio. Oh bunga bunga! Oh bunga bunga! Bunga bunga. Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, vada via. Secondo me cade.